Benvenuto ad Antonio Friggerio Marketing and Business Development di iCube. Lei ha appena presentato un progetto nella sala convegni che si chiama Impresa Click. Di che cosa si tratta esattamente ma soprattutto qual è l'utilità per il cliente? Certamente, prima di volentieri e grazie per questa ulteriore occasione vetrina di visibilità. Abbiamo appena presentato in estrema sintesi il nostro progetto che come anticipato si chiama Impresa Click. Si tratta di un servizio interamente web, quindi cloud interamente nella nuvola in abbonamento per tutti i nostri clienti che l'hanno già sottoscritto per quelli ancora più numerosi che verranno, consente di accrescere, accelerare il business di chi adotta il servizio imprimendo un ulteriore vantaggio competitivo come in termini di visibilità e di presenza online ma anche offline. È proprio quello che il nostro target delle piccole imprese della produzione, della distribuzione, del terziario evoluto ci stanno chiedendo di cui avevano bisogno. Mettiamo alla disposizione di piccole organizzazioni degli strumenti che fino a ieri erano a pannaggio esclusivo delle grandissime organizzazioni, quindi è stato accolto veramente con grandissimo favore ed interesse. Che cosa significa? Innanzitutto la presenza online, un sito web oltre che estremamente elegante, professionale, punito nell'immagine della grafica in pochi click, con cinque click è possibile crearsi un sito, oltre che bellissimo come ho detto, un sito non statico, non solamente vetrina ma un sito interattivo che serva al business per generare dei contatti e delle opportunità. Quindi delle form per catturare delle segnalazioni, delle richieste di interesse e di informazioni scendendo poi molto nello specifico e nel concreto, ma anche la possibilità di esporre il proprio catalogo della propria proposta dei prodotti, fino all'e-commerce, all'e-shop, alla vendita online, via internet per chi lo desidera. Questi siti hanno già tutta l'ottimizzazione e il posizionamento nativo sui motori di ricerca, sono già integrati, di cosa molto richiesta e apprezzata, con i social network, in particolare con Facebook e Twitter, nativamente integrati, e poi sono già nativamente ottimizzate per accessi da dispositivi mobili, qualunque smartphone, tablet PC, dispositivi iPad e quant'altro. Questo è molto prezioso per non pregiudicarsi accessi da parte del mercato, ma anche per fare qualche pubblicazione da parte dell'utente, del cliente direttamente dal proprio dispositivo. Magari non tutto il sito, ma pubblicare una notizia tempestivamente in mobilità è anche questa una cosa che ha trovato e sta trovando larghissimo seguito. La content curation, la content curation parziale di una parte del sito? Assolutamente, perché il sito, come ci insegnano gli analisti, deve essere assolutamente non statico, ma deve essere sempre vivo e recare tutte le novità, le campagne, le promozioni e le offerte dell'azienda che va a esporre sul web, proprio per testimoniare che l'azienda è vitale e dialoga con i propri clienti o con i potenziali clienti che vorrebbe reclutare ben volentieri all'interno della propria clientela. E questo è soltanto, questo che ho detto finora è solo un tassello, un piccolo tassello della nostra proposta, il valore della nostra proposta sta nell'interezza, perché oltre alla parte del sito web abbiamo tutta la comunicazione multicanale integrata. Questo vuol dire sempre dallo stesso strumento, dalla stessa pagina, dalla stessa console, lanciare comunicazioni attraverso tutti i media possibili, quindi dall'email, la posta elettronica certificata, gli sms, gli mms, i fax, quindi strumenti innovativi, strumenti un po' meno, fino alla tradizione che è la posta cartacea, che non è assolutamente morta e quindi dal nostro servizio internamente si possono inviare le raccomandate, il ricevo di ritorno, i telegrammi, la posta prioritaria e quant'altro. Dopodiché abbiamo anche un po' di CRM, quindi un'applicazione per gestire le relazioni con i clienti, molto molto semplice, volutamente l'abbiamo tenuta molto semplice per gestire le trattative, le visite per chi ha degli agenti e anche questo è stato molto apprezzato dal mercato e ci è stato riconosciuto in più occasioni. La collaborazione, che vuol dire, significa la gestione di agende, calendari integrati, lo scambio e l'archivazione di documenti, in modo che gli abbonati al servizio possano collaborare con i propri clienti, con i fornitori, con i business partner, quindi un modello molto innovativo, prima ancora che una soluzione, un nuovo modo di lavorare possibilmente, quanto più possibile, in mobilità più che dal pc, attraverso dispositivi mobili. Se noi con un aggettivo, comunque sia con una parola, volessimo raccontare il punto di forza di questo progetto, come lo potremmo sintetizzare? L'aggettivo che è assolutamente pervasivo e nell'innovazione abbiamo tutte le frontiere tecnologiche più innovative, ma prima ancora un modo nuovo di lavorare e poi la completezza e l'interesse, perché se un'azienda deve soltanto fare degli invidi sms, una campagna con, piuttosto che inviare soltanto delle mail, siamo i primi noi a dire che ci sono altri strumenti che fanno solo questo, ma se un'azienda apprezza tutto il ventaglio, il bouquet, gli strumenti ed opportunità che mettiamo a disposizione, allora impresa click fa al caso suo. Le faccio un altro esempio molto interessante che è sull'offline, è la creazione e la generazione di questi QR code univoci per ogni pagina del sito o per le pagine che il cliente desidera può utilizzare questi QR code sulle affissioni, sulla distribuzione di volantini, cartacce in tutti i modi e poi però con dispositivi mobili chi visualizza l'affissione del volantino viene immediatamente reindirizzato a una pagina web, incomincia a navigare e incomincia a dialogare come ha detto lei giustamente con l'impresa e qui vi dasce l'interesse qui il valore, comunicare e dialogare con il mercato in maniera bidirezionale per rispondere alla sua domanda. Va bene, grazie dottor Friggere di essere stato qui con noi e in bocca al lupo per impresa click. Crepi al lupo e ancora grazie a voi, è stata un'occasione veramente interessante e proficua che continuerà a essere in questi giorni. Gli organizzatori del premio saranno felici di questo feedback. A dopo con il prossimo ospite. Grazie a tutti.